Questo video riguarda i migliori 3 padella per ottenere crepes. Il vincitore della qualità è il rossetto padella per crepe. Realizzato in alluminio fuso resistente e robusto che conduce il calore in modo rapido e uniforme, evitando così il surriscaldamento locale e preparando frittelle perfette e deliziose. Il rivestimento antiaderente Quantanium a 4 strati consente la cottura senza grassi. Sigillazione antiaderente innocua al 100%, 0% PFOA, 0% piombo. Con un uso corretto, il rivestimento diventa molto resistente e antigraffio. La padella per crepe è colata in uno stampo che non si deformerà quando utilizzato, anche ad alte temperature fino a 260 grado Celsius. Il fondo della padella è completamente piatto e lucido, in modo che la stufa sia perfettamente protetta. Adatto a tutti i tipi di stufa tra cui induzione, gas, elettricità, ceramica e halogena. Grazie al foro nella maniglia, è possibile appendere la padella alla parete per risparmiare spazio. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il QLZ Padella per Pancake. La padella per Pancake è realizzata in un unico pezzo di alluminio pressofuso e ha il rivestimento antiaderente ottimale della pietra Mayfan. Il fondo della padella per crepe se è molto piatto, può condurre rapidamente il calore e distribuire uniformemente il calore per garantire il miglior effetto di cottura. Il bordo della padella Pancake adotta un design ad arco unico, che può prevenire efficacemente il trabocco del cibo e facilitare la rotazione o la rimozione del Pancake. Questa padella induzione può essere utilizzata con tutti i tipi di piano cottura, inclusi quelli a induzione, in ceramica, a gas ed elettrici. Questa padella da chef è lavabile in lavastoviglie e adatta al forno. Funziona meravigliosamente in forni fino a 250 gradi centigradi barra 480 gradi F. La superficie antiaderente garantisce una cottura facile e più sana con meno olio richiesto. Il vincitore del premio è il Master Class Padella per Crepe. Non vengono rilasciate tossine durante la cottura. Serve anche meno olio, il che la rende una scelta più generosa per voi e per l'ambiente. Il rivestimento in ceramica senza BPA, PTFE e PFOA permette di cucinare crepes, pancake e omelette velocemente. Questa padella per crepe antiaderente è realizzata in alluminio duro con una base piatta in ferro, permettendo una distribuzione del calore rapida e uniforme. Questa padella è sicura per piani cottura a piastra solida, a gas, alogeni, in caramica, a piastra radiante e a induzione, e anche per forni. Questa padella per pancake misura 24 cm scoprite le altre padelle della gamba, tutte lavabili in lavastoviglie con garanzia di 15 anni. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.